Ciao Eikers, bentrovati in questo nuovo video. Oggi, come avete visto dal titolo, voglio parlarvi di come riuscire a fare tanti chilometri on trail. Ma prima di partire, una piccola precisazione per chi non mi conosce, è capitato su questo video, non conosce il canale. Io sono Lorenzo, nel 2018 ho percorso il Pacific Crest Trail, un sentiero di 4200 chilometri che va dal Messico al Canada. Dopodiché ho continuato a coltivare questa passione per i trekking lunghi. Durante i miei svariati trekking lunghi mi è capitato appunto di andare con calma, di fare giornate tranquille, ma mi è capitato anche altrettanto spesso di fare giornate molto molto lunghe, nelle quali percorrevo molti chilometri, camminavo per molte ore. Tornando indietro, ad esempio, sul Pacific Crest Trail mi è capitato di fare diverse giornate sopra i 40, ma anche diverse giornate sopra i 50 chilometri. Mi è capitato recentemente di percorrere la Translagorai, che è il trekking che attraversa la catena del Lagorai in Trentino. Mi è capitato di percorrere la sua interezza di quasi 80 chilometri in due soli giorni, facendo anche una giornata da 42 chilometri con quasi 3000 metri di dislivello positivo. L'anno scorso, l'estate scorsa, ho attraversato i Pirinei, dall'Atlantico al Mediterraneo e ci sono state svariate giornate, soprattutto nella seconda metà del trekking, dove ho sempre spinto sopra i 35 chilometri, facendo svariate giornate sopra i 40 chilometri, e anche una giornata da 54 chilometri e anche lì mi sembra quasi 3000 metri di dislivello positivo. Ma perché vi dico tutte queste cose? Ovviamente non ve lo dico per tirarmela, per dirvi quanto sono bravo, quanto sono prestante, quanto sono forte. Semplicemente per dirvi che mi è capitato tante volte effettivamente di fare tanti chilometri on trail e quindi mi sento di poter dare anche il mio contributo nel darvi dei consigli. Prima di iniziare, un'altra premessa barra disclaimer. Questo non è un video per chi va a fare camping, questo non è un video per chi vuole andare a farsi la passeggiata in montagna in giornata o di un paio di giorni o tre giorni, ma vuole andare con calma, fare pochi chilometri al giorno perché vuole guardarsi il paesaggio e come si dice negli Stati Uniti, stop and smell the roses, quindi fermarsi e non usare le rose, si dice, no? È un po' un detto. Stop and smell the roses? Never. E questa tra l'altro è una modalità che appartiene anche a me perché anche a me piace ogni tanto andare il weekend, mi faccio due ore di camminata, mi accampo in riva a un lago e me la passo così, medito, mi guardo intorno, faccio le fotografie. È un altro modo di viversi la montagna. Quindi per chi preferisse questo modo di vivere la montagna, il mio video non è da intendere come un'aggressione verso il loro modo, il modo stop and smell the roses, che è anche il mio ogni tanto. È semplicemente vuole essere consiglio per chi ha voglia ogni tanto di spingere un po' di più e fare delle giornate più intense. Mi è capitato un'infinità, un'infinità di volte, di sentirmi dire che io non mi godo il paesaggio, io non mi godo il sentiero che attraverso perché vado troppo veloce. Innanzitutto il troppo veloce è una cosa estremamente relativa. Ognuno ha il suo ritmo e la sua capacità di introiettare gli istanti, di godere gli istanti, di captare i luoghi che attraversa. In secondo luogo non c'è solo un modo di godere di un sentiero. Io stesso traggo piacere dall'attraversare un luogo con calma, guardando, guardandomi intorno, ascoltando i suoni, fermandomi. Al contempo però c'è un'altra parte di me che riesce ad apprezzare l'attraversare dei luoghi in velocità. Questo perché il riuscire a fare tanta strada in un singolo giorno mi fa sentire forte perché ciò vuol dire che sono riuscito ad affrontare tutta una serie di disagi, fatica, sudore, salite, discese, fame, sete, che la giornata che il sentiero mi ha buttato addosso, sono riuscito a superarle, sono arrivato alla fine della giornata. E in un certo senso questo essere riuscito a superare tutte queste ammole di sfide in un singolo giorno mi fa sentire adatto a quel luogo. Per certi versi mi fa sentire che quel luogo non è più un luogo ostile perché sono passato attraverso tutti quei disagi che quel luogo mi ha buttato addosso. Per certi versi appunto questo mi fa sentire facente parte di quel luogo e attraversare 40 chilometri di catena montuosa in una giornata mi fa sentire che riesco a cavarmela in quel luogo, mi fa sentire a casa, ulteriormente a casa in quel luogo. Ultima cosa che voglio dirvi è che oggi non vi parlerò dell'allenamento perché è una cosa dalla quale non si può prescindere, non si può prescindere dall'avere un minimo di condizione fisica adeguata per poter fare tanti chilometri on trail. Questa è una cosa della quale non voglio parlare in questo video. Invece voglio parlare dei miei 10 segreti per fare tanti chilometri on trail. Il primo è impostare una meta che sia fattibile ma comunque ambiziosa per la giornata. Che cosa intendo dire? Intendo dire che se noi ci troviamo a nostro agio a fare 15 chilometri al giorno proviamo a impostare un 20 chilometri, un 22 chilometri. È una meta sicuramente fattibile ma comunque ambiziosa rispetto a quello che è la nostra normalità. La cosa sulla quale fa leva questo sistema, questo trucchetto è la mente. Perché la mente, guardate, ha un potere pazzesco. A me è capitato, mi capita spesso e sono sicuro che capita anche a voi, di dire ok oggi faccio una giornata rilassante, faccio 10 chilometri, faccio 12 chilometri, faccio 15 chilometri. La mente automaticamente sa che la fine della giornata sarà a 10, 12, 15 chilometri. Vuol dire che un paio di chilometri prima di arrivare a quella soglia lì, la mente inizierà a mollare, a dirvi basta, a dirvi sono stanca, sono stanco, il corpo è stanco, fermati. Questo è il potere della mente. La stessa cosa noi possiamo rovesciarla, possiamo dire invece oggi voglio fare una giornata dura ma ce la farò. Voglio fare 30 chilometri. Lo so perché mi è capitato, io passo i 12, 13, 15 chilometri senza neanche accorgermi e inizio a sentire la stanchezza dopo i 20, 22, 25. E quindi è molto importante veramente settare, impostare la propria mente su una meta ambiziosa perché è lì che vi porterà. Il secondo segreto, che non è assolutamente un segreto, si può tradurre con il mattino a loro in bocca. Quindi partiamo presto la mattina. Partiamo presto la mattina perché essenzialmente le temperature sono più favorevoli al camminare. Stiamo parlando adesso di trekking estivi, nel periodo estivo. Ciò ci permetterà di fare tanti chilometri prima che arrivi il caldo del centro della giornata che ci rallenta sicuramente un po'. Ma poi ovviamente partendo presto abbiamo anche più ore a disposizione durante la giornata per camminare. Un altro segreto che cerco sempre di rispettare è il fare almeno due terzi dei chilometri stabiliti per la giornata prima della pausa pranzo. Questo perché? Perché il mattino a loro in bocca, quindi la mattina essenzialmente rende di più. E perché soprattutto dopo pranzo si è appesantiti, quindi parte dell'energia è dirottato nel processo di digestione. Questo consiglio ci porta anche al prossimo segreto che è il restare leggeri a pranzo, quindi consumare alimenti facilmente digeribili e che non ci appesantiscano troppo. Insomma ecco c'è da evitare sicuramente il panino con la lucanica e il formaggio. Prossimo punto, prossimo segreto è limitare veramente all'osso le pause. Quindi cerchiamo di non fare pause per controllare il telefono, la mappa e dove sarà la prossima acqua eccetera. Cerchiamo invece queste cose di pianificarle la sera prima. Io ad esempio la sera prima di addormentarmi cerco di guardarmi la mappa, di studiarmi la mappa, di studiarmi la tappa per il giorno seguente in modo da avere già in testa quello che saranno le distanze, i dislivelli, i punti dove sarà opportuno fermarsi per prendere dell'acqua, per fare delle soste. In modo tale che il giorno dopo potrò camminare senza dover essere sempre lì a controllare le mappe, a controllare il telefono, a cercare dei punti dove fermarmi per l'acqua e così via. Prossimo segreto, veramente secondo me fondamentale, è il continuare a mangiare ininterrottamente. Con questo cosa voglio dire? Intendo dire che è importante mentre si cammina, se si ha in mente di percorrere tanti chilometri, è importante avere a disposizione a portata nelle tasche dei pantaloni, nelle tasche degli spallacci ad esempio o della cintura, dello zaino, avere a disposizione degli snack in modo da poter continuare a manzucchiare qua e là. Io ad esempio la mattina parto con una tasca dello spallaccio completamente piena di barrette, di frutta secca, frutta disidratata e caramelle e cioccolata, per dire. Vi faccio un esempio. Cose che si mangiano molto rapidamente, cose che non richiedono una grande fatica per essere mangiate, che si mangiano anche con piacere, sono cose estremamente digeribili e che vi danno un'energia immediata. Ecco, io personalmente, quando faccio giornate molto intense, tendo a mangiucchiare ogni 20 minuti, mezz'ora, mangiucchiare qualcosa. È importante avere questi alimenti a portata, così non dobbiamo nemmeno fermarci, appunto, e toglierci lo zaino per mangiucchiare. Vi ricordo che in giornate come queste, nelle quali si percorrono 30, 40 o più chilometri, il corpo consuma tantissimo, consuma più di 6.000 calorie in un singolo giorno. Quindi è bene cercare di integrare, almeno parzialmente, le calorie che si bruciano per riuscire a mantenere un livello d'energia alto che ci permetta di continuare a camminare. Arriviamo a un punto, a un segreto che mi piace tantissimo, che riguarda l'acqua gelata, l'acqua fredda. Quando si cammina in montagna è molto facile trovare dell'acqua tendenzialmente fredda, che sia una fontana, che sia un laghetto, che sia un torrentello, un ruscello, è facile trovare acqua fredda. Ecco che se ci si bagna i piedi, le gambe, oppure si fa proprio il bagno in acqua fredda, si fa una sorta di crioterapia. Questo aiuta i piedi, aiuta a sfiammare, perché stimola la circolazione, aiuta nel recupero muscolare. Per i più audaci, se si fa un bagno completo nell'acqua fredda, nota bene, bisogna essere preparati, bisogna saperlo fare, non improvvisiamoci uim off di turno. Un bagno freddo comunque, per quanto riguarda la mia esperienza, ti rigenera completamente. A me capita di camminare magari per 4-5 ore, 6 ore, 7 ore, essere stanchissimo, sentirmi stanchissimo. Arrivare in riva a un lago, una fonte d'acqua insomma, e farci il bagno. Quando io esco ho recuperato completamente tutte le energie e mi sento nuovo. Tornando ai piedi, passiamo ad un altro consiglio, che è il togliersi le scarpe sempre, quando si può. Questo rende più difficile la comparsa delle vesciche. Infatti, con giornate così intense, camminando per 10 o 12 ore al giorno, ecco che se teniamo le scarpe sempre addosso per tutto il giorno, insomma è molto facile che con l'umidino del sudore e lo sforzo, eccetera, si formino delle vesciche. Quindi toglietevi le scarpe quando potete, una volta o due volte al giorno, quando potete, fate respirare i piedi, fateli asciugare un po' e vedrete che il rischio di vesciche sarà molto molto ridotto. Arriviamo al penultimo suggerimento, che è l'avere a disposizione sul vostro telefono, qualsiasi dispositivo della musica che vi motivi a tenere duro durante le vostre giornate di trekking lunghi. Ma non solo la musica, perché personalmente dopo un po', dopo che ho ascoltato una, due, tre canzoni che mi motivano, si percepiscono una sorta di assuefazione anche alla droga musica, no? E quindi preferisco avere anche delle puntate di podcast scaricati o di audiolibri, in modo tale che io possa ascoltarli e che possa soprattutto spostare la mia attenzione, spostare la mia mente dalla fatica a un qualcos'altro, che è un qualcos'altro di mio interesse. Ciò appunto mi permette di affrontare le salite, le situazioni di disagio quando vorrei mollare, con un po' più di leggerezza, perché appunto la mia mente è portata a staccarsi da quel momento, da quel luogo e concentrarsi su qualcos'altro. Ultimo segreto, che non è molto un segreto, perché molti di voi probabilmente che seguono il mio canale pensavano che l'avrei messo al punto uno, che è semplicemente cercare, cercate di tagliare il peso dello zaino, cercate di affrontare le vostre giornate di trekking lunghi con degli zaini ridicolmente, ridicolmente leggeri. C'è poco da dire, è palese, è ovvio che per fare tanti chilometri on trail, per affrontare delle giornate veramente veramente lunghe, avere uno zaino molto molto leggero fa senza dubbio la differenza. Bene ragazzi, questi erano i miei dieci trucchi che utilizzo per fare giornate molto molto lunghe on trail. Di nuovo, ci tengo a ripetere che questo non è un video per il trekking in generale, ma è un video mirato per chi vuole fare tanti chilometri on trail, chi vuole farsi un sentiero o qualche giornata su un sentiero spingendo tanto, perché vuole provarsi, perché vuole apprezzare il sentiero e il suo corpo in maniera diversa. Non è un'accusa verso chi va più piano, che si prende la calma, sono semplicemente due cose diverse. Non c'è piano e veloce. Ci sono semplicemente due modi, modi distinti, di apprezzare la stessa esperienza. Posso apprezzarla andando piano e gustandomi ogni singolo particolare, ma posso apprezzarla anche in maniera diversa, facendo molti chilometri nella stessa giornata. Mi perdo la particolare vista? Mi perdo il particolare momento? Può essere, ma probabilmente non era quello il mio obiettivo per quella giornata. Il mio obiettivo per quella giornata era fare tanti chilometri, provare il mio corpo, la mia mente, in quell'esperienza, per certi versi dura, ma per certi versi anche molto immersiva e meditativa. Basta, chiuso anche questo pippone. Per questo video è tutto. Se anche voi avete qualche sistema, qualche tecnica per fare tanti chilometri on trail, fatemelo sapere nei commenti. E noi ci vediamo alla prossima con un altro video. Ciao hikers!